Dunque a Messina bianchezzurri passivi, piatti soprattutto senza anima e cuore. La sconfietta 1-0 una logica conseguenza. Non ci sono attenuanti, una partita finanche difficile da commentare. È mancato tutto, pessima prova, senza nerbo e cattiveria contro un avversario affamato di punti. Non puoi permetterti di giocare in punta di piedi, altrimenti rischi brutte figure. E così è stato. Vento e terreno di gioco del Franco Scoglio, comunque migliorato rispetto al recente passato, non possono giustificare una prestazione così vacua di contenuti. Semmai i bianchezzurri si sarebbero dovuti adattare, ma hanno clamorosamente steccato. Giusto e doveroso dire la verità. Il Messina ha meritato, interpretando la gara con aggressività. Nelle due fasi, Balde è stato il giocatore chiave. Prima ha annullato Palmiero e poi ha inciso sulla trequartie negli ultimi 16 metri. Suo, infatti, il tiro che ha trovato la sfortunata e decisiva deviazione di Messic è stato il gol vittoria. Errori commessi tuttavia a monte. Palla persa a centrocampo da Merola. Balde lancia nello spazio Ragusa e si propone, da parte dei centrocampisti, nessuna copertura sullo spagnolo che riceve dal compagno di squadra e sblocca il punteggio con l'involontaria complicità appunto di Messic. Il portiere siciliano Fumagalli è stato impegnato una sola volta. Punizione di Palmiero e deviazione aerea di Brosco, ovvero neanche il minimo sindacale contro una delle peggiori difese del girone. Insomma, partita da Archiviare in fretta dopo due trasferte di fila. Domenica prossima impegno Casalingore, 14.30, contro la Turris degli ex Maniero e Frascatore. In classifica, nuovo aggancio del Foggia che ha battuto il Monopoli 1-0. In realtà a Rossoneri terzi in virtù di una migliore differenza reti. A soli due punti il Picerno che si è imposto per 2-0 sull'Ecerignola. Un girone fa, alla vigilia della quindicesima giornata, i Lucani, pensate, accusavano dal Delfino un ritardo di ben 21 lunghezze.